Qualche mese fa abbiamo parlato del gruppo di attivisti che protestano contro il cambiamento climatico straiandosi per terra impedendo alle persone di passare e altri gesti senza senso che non fanno nulla di positivo per il clima se non far arrabbiare le persone che infastidisci con i tuoi atti criminali e allontanandole dalla tua causa che vorresti supportare. E dopo tutto questo tempo si potrebbe pensare che abbiano capito finalmente che protestare in questo modo è inutile ma purtroppo non è così. Anzi, stanno peggiorando sempre di più e le persone stanno davvero cominciando ad avere in abbastanza. Quindi oggi vedremo alcuni aggiornamenti sui nostri attivisti preferiti e alcune delle loro proteste che sono finite piuttosto male ma se non siete ancora iscritti sappiate che avrete un 83% di probabilità di incontrare questi attivisti che vi bloccheranno la strada la prossima volta che sarete in ritardo. Io non rischierei. Bene, direi di iniziare con questo video che è uno dei casi più gravi tra queste proteste dove come al solito si sono messi a bloccare le strade e in questo caso è successo a Londra. Solo che in questo caso tra le persone che hanno bloccato c'era anche una madre che stava portando il suo figlio in ospedale ed è stata bloccata da queste persone che se ne fregano altamente. Ok, quella che si vede che scende dalla macchina e si mette a urlare contro il tipo del gruppo è la madre del bambino che sta provando a spiegargli che deve portare il suo figlio in ospedale ed è incredibile quanto siano impassibili davanti a questa situazione. Letteralmente non gliene frega niente e questi sono quelli che si spacciano per brave persone moralmente superiori a tutti gli altri. E poi se qualcuno sta male non si chiedono neanche se la loro inutile protesta potrebbe causare dei problemi di salute per queste persone o nei casi peggiori la morte. Se ne fregano altamente perché quello che stanno facendo è più importante. Tra l'altro questo modo di protestare che fino ad ora non avevo mai visto di solito si sdraiavano o comunque si sedevano per terra adesso invece camminano lentamente tenendosi per mano non so esattamente il motivo di questo cambiamento in entrambi i casi bloccano comunque le persone e le macchine inquinano molto di più di quanto avrebbero fatto senza di loro l'unica cosa che cambia è che camminando così lentamente e tenendosi la mano sembrano veramente una setta è quasi inquietante da questo punto di vista ma se mi mettessi nei panni della madre se avessi mio figlio in macchina che deve andare in ospedale immediatamente perché magari rischia addirittura la vita e mi trovassi davanti questa gente che mi blocca la strada non so cosa farei soprattutto perché nel momento in cui spingi queste persone fuori dalla strada e provi ad andare avanti è molto probabile che legalmente saresti tu a subire le conseguenze invece di questi criminali che bloccano le persone come tra l'altro vedremo anche più avanti in questo video ma se fosse un caso in cui è proprio questione di vita e di morte raggiungere l'ospedale non so quanti sarebbero stati calmi come questa donna ma penso che questo video in particolare sia importante perché mostra la vera natura di queste persone e delle loro proteste le ragioni sarebbero che per il cambiamento climatico ci estingueremo la terra e la vita umana sono in pericolo e non vorrebbero protestare in questo modo ma sono costretti a farlo ma allo stesso tempo quando una loro protesta blocca un bambino che sta male non gliene frega niente un po' come quando si mettevano a fare dei discorsi sulle famiglie che non hanno cibo da mangiare ma allo stesso tempo buttano del cibo lanciandolo contro qualche monumento un'altra novità di queste proteste è che hanno avuto anche la brillante idea di incollarsi le mani alle strade in alcuni casi però con una colla che si dimostra più efficace di quanto pensassero ma la cosa che sta succedendo è che ultimamente le persone stanno cominciando ad essere veramente stanche di queste proteste e di subire passivamente quello che succede e sempre più spesso ci sono notizie e video di persone che reagiscono ad esempio in questo video vediamo un uomo che doveva andare al lavoro ed è stato bloccato da questi attivisti una cosa che veramente trovo vergognosa è come la polizia gestisce queste situazioni non solo non fanno nulla ma se hai una vera urgenza e scendi per dire a queste persone che devono levarsi dalle palle rischi di passare tu dalla parte del torto va bene protestare in piazza o da qualche altra parte ma bloccare le strade in questo modo quando qualcuno potrebbe avere un'urgenza è una follia è un esempio di qualcuno che ha deciso di reagire anche se in modo esagerato immagino che d'ora in poi le persone che perderanno la pazienza in questo modo saranno sempre di più è un camionista tedesco infatti stava guidando un camion e si è trovato davanti questi tizi seduti per terra e diciamo che non aveva nessuna intenzione di stare lì ad aspettare quello che succede dopo è che il camionista continua a guidare piano per muovere il tipo davanti e alla fine si sposta lasciandolo passare una cosa abbastanza importante su questo caso è che il camionista stava trasportando ossigeno a uso medico da portare in ospedale dopo quello che è successo secondo quanto è stato riportato da alcuni giornali gli avrebbero sospeso la patente a questo camionista ovviamente la violenza non dovrebbe mai essere una scelta anche se in risposta a questi atti criminali e vandalici di questi attivisti perché nel momento in cui gli metti la mano addosso passi anche tu dalla parte del torto soprattutto legalmente come del resto non si dovrebbe neanche rischiare di investire qualcuno che si è estraiato per terra andando avanti con la macchina o il camion quindi non giustifico quello che ha fatto ma purtroppo situazioni di questo tipo saranno sempre più comuni dopo che questi attivisti hanno portato la situazione al limite hanno dimostrato che non gli importa se bloccano qualcuno che sta male o che ha delle cose importanti da fare e che potrebbero letteralmente salvargli la vita anche qui in Italia ovviamente queste menti geniali non potevamo farcele mancare anche qui in Italia ed ieri una protesta che hanno fatto a Milano dove hanno lanciato della vernice sul telo della statua di Piazza Duomo e se vi stesse chiedendo perché ci sia un telo sulla statua beh il motivo è che era il restauro dopo una precedente protesta sempre di questi attivisti in quel caso la vernice era rimuosa sulla statua per alcuni mesi perché a differenza di altre volte non riuscivano a rimuovere quella vernice i costi per ripulirla sono stati di circa 30.000 euro e sono stati pagati da un privato e sempre per quanto riguarda delle proteste con che hanno fatto più danni che altro un paio di mesi fa hanno avuto la brillante idea di versare un liquido nero nella fontana di Trevi per ripulire lo schifo che hanno lasciato il comune ha dovuto buttare 300.000 litri di acqua perché la fontana è al riciclo continuo ed è stata svuotata completamente più bassa il tempo e più mico mico che in realtà questi gruppi di attivisti lavorano per chi nega il cambiamento climatico ed è contro tutte le norme per limitare l'inquinamento le loro proteste sono talmente stupide che fanno più danni che benefici l'unica cosa che riescono a fare è attirare l'attenzione sulle loro causa ma facendolo nel modo più sbagliato possibile è negativo tra l'altro attirandosi tutto l'olio delle persone che impastidiscono quotidianamente per essere delle persone che dicono di voler lottare per l'ambiente e salvare l'umanità sembra davvero che stiano facendo tutto il possibile per ottenere l'esatto contrario e una cosa divertente su questa storia è che in Inghilterra un gruppo di youtuber ha deciso di mandare una persona nel gruppo di questi attivisti fingendosi uno di loro per scoprire il luogo in cui si ritrovano come agiscono eccetera e dato che prima di andare a protestare in strada si sono riuniti tutti quanti insieme hanno deciso di andare in gruppo vestiti anche loro di arancione per circondarli tenendosi per mano e impedirgli di alzarsi e andare a protestare e penso che questa cosa sia assolutamente geniale finalmente hanno provato quello che fanno tutti i giorni a delle persone innocenti senza nessun motivo per il resto l'unica cosa certa è che queste proteste andranno avanti ma quello che sarà interessante osservare è la reazione delle persone che cominciano a essere veramente stanche di tutto questo in ogni caso fatemi sapere la vostra opinione nei commenti ringrazio come sempre gli abbonati per il supporto e direi che ci becchiamo alla prossima e direi che ci becchiamo